ce l'abbiamo con noi questa sera è andremo non ciao andrea ciao davide andremo non del x1 boxing team mononimo sicuramente gli sport a tutti gli sport e ti aiutano a vivere perché ti aiuti a soffrire per fare quello che ti piace quali sono le regole pugni di riposte tirare si quali dalla vita in sui calci si può tirare si sulle gambe si fa e mio maestro mi ha detto guarda andrea bravo ma detto adesso andiamo a festeggiare no perché hai vinto mi ha detto però ricordati che si impara più da una sconfitta che da dieci vittorie altra aforismo e metafora che mi hanno detto in te l'anima detto ogni tecnica che impari è come un colpo di fucile di pistola tu immagina più tecniche sai più il caricatore lungo e finché un caricatore continua a sparare colpi no quindi non smettere di imparare una tecnica nuova anche se non la usi in quel momento perché potrebbe esserti utile e gli dico proprio quello che emanano cos'è che mani quello che tu pensi le tue emozioni quindi loro devono essere positivi essere presi bene certo perché sono contagiose le emozioni